Guarda la ulti, guarda la ulti come lavora, cioè spettacolare ragazzi, è troppo soddisfacente Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars Signori, oggi vi porto un video un po' diverso dal solito, su una cosa che sinceramente è già da diverse volte che vi voglio portare E non vi ho mai portato, non so il perché Eccoci qua infatti sul nostro iPadino, signori, siamo in compagnia del buon Coco e del buon Byron Che oggi ci aiuteranno con questa comp, che non è stata scelta a caso, in una mappa un po' d'eccezione Prima di spiegarvi bene che cosa faremo oggi, vi ricordo come sempre che ci sono tre modi semplici e veloci per supportare il channel In che modo? Uno, sicuramente andando qua e inserendo il codice FR, che tra l'altro guardate è pure scaduto, lo reinseriamo al volo, molto importante Due, con l'iscrizione al canale, che è importantissima per restare aggiornati sui prossimi video che usciranno Quindi, pioggia del tasto iscriviti e la campanellina, così fateli fare proprio un din din down, anzi din don down, visto che siamo a Natale E pollicioni su, anche quello fondamentale Ragazzi, tutti i giorni su Brawl Stars succede una cosa, tutti i giorni noi ce ne lamentiamo, ma nessuno fa mai niente Oggi è arrivato il momento di dire basta, è arrivato il momento di intervenire Oggi ragazzi, parliamo di questa Questa ragazzi è l'ennesima mappa, anzi forse dovrei dire l'ennesimo capolavoro fatto dalla community Cioè, da quando effettivamente è uscita la future di poter pubblicare le mappe in game, non se ne è ancora vista una furba E quindi oggi ragazzi, andremo a fare un video dedicato a questa mappa Perché secondo me, certe idee della community devono rimanere impresse per sempre Il fatto è che, noi ci scherziamo e quant'altro Però, visto che comunque si possono fare coppe in queste mappe Effettivamente, la gente si inventa delle strategie E oggi vi spiego come giocare, o almeno come provare A giocare in una mappa piena zeppa di muri Soprattutto quando è una bounty e bisogna fare più kill possibili Buon divertimento Allora, due cose teoriche Abbiamo un Colt, un Rico e un Semello Questi Brawler hanno tre funzioni specifiche Colt deve rompere e creare corridoi Rico deve sfruttare i corridoi per killare Semino deve bloccare i corridoi Tutto chiaro? Spero di sì Allora, fondamentalmente una volta spawnati Coco dovrà sparare, scusatemi, un colpo Verso il muro, quindi se spawniamo a sinistra un colpo verso sinistra Se spawniamo a destra un colpo verso destra Poi da lì un altro colpo verso l'alto o verso il basso E nel frattempo dovremmo cercare tutti quanti di fare delle kill In realtà è molto più semplice a farsi che a dirsi Quindi procediamo subito E... Rico è a 656 coppe Mi spiace dropparlo ma Dobbiamo dircelo Il rischio c'è Allora, io proverò a commentare Non so se ce la farò No, perché dici così? Guarda, guarda, è già Guarda, questi qua li killiamo super easy Questi li killiamo Allora, tranquillo Allora, devi rompere, zio Ok, guardali Mi hanno ucciso prima che parto per colpo Vai tranco, vai tranco, vai tranco È l'unica cosa che... Ok, va bene, va bene E... Ci sta, ci sta E... Guardali lì la kill, va bene Non si sta capendo niente E soprattutto il nostro esempio Se ne sta un pochettino andando a quel paese Va bene? Va benissimo? Ok, guardalo lì Edgar Va bene? Via, 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 vai giù Vai giù, vai giù Vieni semello, vieni semello Chiudi tutto, bravo Bravo, rompi, rompi Ecco, ce la stiamo facendo Visto? Easy Lasciami, lasciami la scena Lasciami la scena Ok E vedi, adesso qui noi facciamo festa Edgar jumpa E che jumpi? Cosa vuoi che ti dica? Lo killiamo Easy peasy Easy peasy Guarda che lavoro Aspettiamo che jumpi ancora Per noi non è un problema Ok, guarda, guarda, guarda Guarda come teniamo Ragazzi, questa è la magia di questa mappa È veramente uno spettacolo Tra l'altro questi cani non sono minimamente long Quindi Ok, occhio Occhio Occhio, occhio Non bisogna morire Ricarichiamoci la vita Ok Ricarichiamoci la vita Soprattutto te Viron Chiudi pure Se vuoi Chiudi pure un po' Quando ti va Ok Spariamoci due colpetti Bravo Occhio Edgar però perché Potrebbe jumparsela Ok Lasciami il corridoio libero appena puoi Così continuo a fare delle belle kill Va bene Adesso lasciamelo pure Aspettiamo il jump di Edgar Quando arriva uso la ulti raga Ok Eccolo qua No zi non mi chiudere Non mi chiudere Pazzo Pazzo sgravato Vai vai Killatelo Killatelo Via veloce Occhio 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 che arriva Occhio che arrivano Occhio che arrivano Mamma mia ragazzi Rischiosello Rischiosello Edgar potrebbe arrivare di nuovo Killati Frank Killati Frank Veloce Rompi il muro se puoi Si Buona Perfetto 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 Raga Top Ce l'abbiamo fatta Come prima partita è andata la grande Come prima partita è andata benissimo Raga il fatto è che In queste cose Ogni tanto va di fortuna Come c'è successo a noi In realtà è veramente un attimo Prima che succeda un pasticcio Però se si rispetta questa tecnica E insomma si gioca un minimo bene Si possono fare delle coppe Ed è quello che proveremo a fare noi oggi Quindi Per la felicità di Coco Che non parla più Proprio si è Coco Due parole su questa mappa Non lo farò per la tua monetizzazione Ok Ok Va bene Vabbè Coco Gradisce molto questa mappa Se non si fosse capito Per favore cerca di rompere subito Amico Amico caro Ok 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 ho fatto una bellissima kill Vai John Rompi rompi veloce Rompi veloce E no la ulti zi Non ne non ti conviene tantissimo Ok Si guardalo lì Guarda che lavoro Va che lavoro Va che storia Perfetto 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 Tenetevelo Tenetevelo Si Guardale lì Perfetto zi Ci siamo riusciti Again Ma siamo fortissimi Ma siamo tipo fortissimi Occhio colt che rompe Ma non è un problema Non è un problema Perché Coco ci pensa a lui A rompere again Ok Attenzione Attenzione Vyron Attenzione Non è un problema Non è un problema Devi rompere di più Coco Devi rompere di più Tranquillo Ti aspettiamo Ti aspettiamo Zii Ti aspettiamo Aia 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 Problema Problema Bisogna schiacciassene un attimo Tranquillo Con calma Con calma Ok Vieni via Vieni via Eh niente Problema Problemino Problemino Ti aspettiamo zio Ti aspettiamo Mizzica Ok Devi cercare di rompere again Ok Ok Con calma Aiuto Ci rimango leggermente Va bene Vai a rompere again Tu provaci zio Ok Ah Buona Eh niente Ciao Cioè zii Stiamo in vantaggio Però vedete È impossibile commentare Queste partite Come si fa a commentare Una roba del genere Ok Con calma Con calma Con calma Aspettiamo che arrivino Bella lì Aiuto Non ho killato nessuno Ok Siamo comunque Che vantaggio Ci sta tutto Il vantaggio Non ho più gadget Non ho più gadget Pegno ha usato Eh niente ragazzi Allora È tutto un po' così Vedete È tutto un po' Frenetico E non si capirà niente L'unica cosa Che la compo Che stiamo usando Alla fine della fiera È giusta Perché Comunque sia Vedete Gli altri Avevano una roba simile Ma gli mancava comunque Il trower Ovvio è che Come vedete Il colt Se si prende male Quello avversario Poi può tranquillamente Usare i suoi gadget Anziché per rompere Per Aiuto Mamma mia ragazzi Quando ci sono sti inizi Che dolore Ok Non dico per rompere Ma appunto Per darci un pochettino Di fastidio Chiudi tutto Chiudi tutto Bravo zi Vai vai Va bene Va bene Va bene Va bene Va che lavoro Va che lavoro Va che kill Che li facciamo Perfetto Raga qua Qua spacchiamo Qua ve lo dico io Che spacchiamo Veramente tantissimo Non chiudere i muri Zi così ci divertiamo Con questi qua Che sono tutti I beli fisici Ok Guarda che mi vado A farmare le kill Cheat Cheat veramente Io ho aperto di tutto Sì sì ma tu hai fatto Il tuo dubbio Non ti preoccupare Don't preoccup Don't preoccup Adesso vado a killare Un attimino Giovanni laggiù Ok Ah guardalo Che è già un fatto in base Rompi il muro Non è il gadget Ok sì Aspetta che vado A farmi le kill tattiche Ok Vatti a fare Edgar appena puoi Ok perfetto Vai fatti Edgar Fatevi Edgar Ok Con calma Nel tempo c'è il resabone Di Manif Ciao bello Così proprio in diretta Grazie carissimo Ragazzi qua proprio dominiamo Sai che forse ci riusciamo Anche a pushare In questa mappa Io ho fatto questo video Quasi per trollare Ma sai che stiamo rischiando Veramente Cheat Con calma Guarda che spettacolo Cioè qui sì che si può dire Che rico work Signori Vedete che Che lavoro Che storia Guardalo Con calma Ma magari 41-25 Non è uno spettacolo Una libidine Poi guarda Coco Con che legge adria ha rotto tutto Guarda Guarda la ulti Guarda la ulti come lavora Cioè spettacolare ragazzi È troppo soddisfacente In maniera esemplare Sì zì c'è Coco quando diceva Che non gli piace Sta mappa scherza Scherza Scherzava ragazzi Per forza Perché come fa Non piacerti una cosa bella così È nato tutto il giorno Cioè è una cosa bellissima Guarda che storia Guarda Tutto un rimbalzo Non si capisce niente Cioè È bellissimo È bellissimo zio Madonna Ho tirato tre ulti Su una Su una rosa Che infarti Signori Cioè l'abbiamo fatta Non si sa come 700 coppe Con questa strategia Da segnare Negli annali Di Brawl Stars Signori Va bene Non fatelo a casa Non fatelo a casa Non rifatelo Assolutamente Signori Io qua mi fermo Vi mando un bacione a tutti Spero che il video Vi sia piaciuto Se è così Fatemelo sapere Con un commento E insomma Questo video Funge solo per Ricordarsi di questa mappa E di come si può giocare In una mappa Piena di muri Ma Non è Non è assolutamente Una buona strategia Per scalare Perché comunque Abbiamo fatto Veramente troppa fatica Non si possono fare coppe Con così tanta fatica Per arrivare sulle 700 Quindi ragazzi Un saluto Ciao